Ciao a tutti ragazzi, oggi in questo video parliamo del Garmin Fenix 7X, un orologio dalle mille funzionalità ma che ha anche dei difetti che non possono essere trascurati e soprattutto cercheremo di rispondere alla domanda vale veramente l'acquisto di questo orologio? Vale la pena passare da 6 a 7? Vediamolo nella recensione completa. Iniziamo subito parlando della gamma di Fenix 7, perché non esiste solo il 7X, esiste il 7 e il 7S il 7S è l'orologio più piccolo, sia di diametro che di peso, naturalmente è versato magari per chi ha un polso più piccolo o una versione da donna il 7, la versione di solito base, che è quella diciamo intermedia tra le tre e poi il 7X, il top di gamma, quello con la batteria più lunga, quello con lo schermo più grosso a questo giro Garmin ha, possiamo dire, unificato la gamma nel senso, lato software troviamo le stesse funzioni su tutte e tre quello che cambia è il lato hardware, ovvero naturalmente il 7S essendo più piccolo avrà una batteria più piccola un pochino più grande sulla versione 7 e il 7X è quello più grande con una batteria più grande e soprattutto del 7S e del 7 esiste la versione base e la versione solar lo so, sono tante versioni, però diciamo che confronto alle versioni precedenti forse questa volta Garmin ha semplificato anche un po' le cose ora però iniziamo subito con quelli che sono i pregi e difetti di questo orologio pregio numero uno, beh sicuramente la batteria questo orologio ha una scarica dell'1.5% ora quindi facendo due conti, 100 diviso 1.5 arriviamo ad avere più o meno 65 ore di utilizzo reali, giuro reali, io ci ho fatto veramente tantissime ore di utilizzo e non sono arrivato alle 65 ma ci sono andato molto vicino oltretutto ha anche la ricarica solare nella versione 7X è di serie e la ricarica solare, ho fatto un test, ricarica all'incirca dell'1% ogni due ore è un dato comunque che va preso alla leggera comunque io l'ho tenuto diciamo completamente fronte sole per diverse ore naturalmente se noi pensiamo ad un utilizzo più reale probabilmente si carica dell'1% ogni 3-4 ore all'incirca questo ne va naturalmente ad aumentare l'autonomia e in totale secondo me ci si aggira attorno alle 70 ore proprio di utilizzo Garmin ne dichiara all'incirca un'ottantina quindi diciamo che più o meno siamo lì ecco altra cosa che mi è piaciuta sempre legata alla batteria è il Power Manager questo l'abbiamo visto anche sul 6 viene anche migliorato sul 7 è una funzione che in pratica ci permette di andare a decidere cosa tenere attivo cosa non tenere attivo in modo da poter andare a risparmiare la batteria se magari ci abbiamo sulla giacca e quindi dobbiamo usare il cardiofrequenzimetro e via dicendo è sicuramente un'opzione molto valida e c'è anche l'opzione personalizzabile ovvero noi andiamo a decidere cosa tenere attivo e cosa no ed è anche abbastanza semplice utilizzarla secondo aspetto positivo i sensori con sensori intendo tutti tranne GPS e pulsossimetro che vedremo dopo allora iniziamo da quello che è i sensori ABC di Garmin quindi altimetro, bussola e barometro nessun problema funzionano bene quando saliamo in quota è giusto al metro come altitudine quindi questi funzionano veramente bene funziona molto molto bene quello che è il sensore di battito da polso funzionava già bene sul 6 questo è stato migliorato soprattutto nei momenti in cui c'è la salita e la discesa del battito cardiaco perché di solito su un lungo periodo più o meno tutti funzionano bene il problema sono le variazioni del battito cardiaco nel breve periodo e questo diciamo che se la cava abbastanza bene questa funzionalità buona del sensore di battito da polso ci dà modo poi di poter avere tanti altri dati che le può essere il nostro sonno la notte quindi come dormiamo, come riusciamo a rigenerare le nostre energie se abbiamo dormito bene, abbiamo dormito male ci può dare il nostro carico d'allenamento quindi se siamo stressati se è un momento in cui invece possiamo andare a poter forzare di più l'allenamento diciamo che partendo da quello che è il battito cardiaco a quello che è lo stress e anche la respirazione lui riesce a darci un sacco di parametri e ci può veramente aiutare nel capire se è un giorno in cui possiamo spingere di più in un allenamento o magari un giorno in cui il nostro fisico è più stanco e dobbiamo stare un pochino più tranquilli a questo proposito mi collego col terzo punto positivo quindi tutto quello che è le pagine dati la versione 7x ha uno schermo molto grande da 1.4 pollici è uno schermo dove noi possiamo andare a mettere 8 campi per schermata 8 secondo me sono troppi 6 è il compromesso migliore per il fatto che poi diventano un po' troppo piccoli per quanto riguarda le pagine dati poi vabbè sicuramente super personalizzabili possiamo mettere quello che vogliamo dove vogliamo da questo punto di vista la personalizzazione di questo Garmin è veramente personalizzabile al 100% poi come in altri orologi ritroviamo la funzione Pace Pro quindi possiamo impostarci un obiettivo di tempo su una distanza e lui ci guiderà la funzione Climbing Pro questa molto interessante per chi magari fa trail running, tracking sapere a che punto sede la salita, a che punto sede la discesa che pendenza hai, in quanto potresti finirla e via dicendo questo l'ho sempre trovato molto utile soprattutto nelle salite molto lunghe in cui avere un'indicazione di dove sei rispetto alla salita ti dà modo anche di poter dosare le energie e poi un nuovo campo introdotto da Garmin Stamina non è altro che la valutazione sul campo di quello che è la nostra energia in quel momento ovvero lui parte al 100% quando iniziamo l'allenamento perché naturalmente siamo freschi pian piano che andiamo a consumare energia vedremo il campo Stamina pian piano scendere lui praticamente ci sta dicendo quanta energia abbiamo ancora in corpo per poter spingere ed è molto interessante perché si va a questo campo Stamina si va anche a ricaricare se noi stiamo per esempio fermi 5 minuti a un ristoro se invece di correre camminiamo 5 minuti quindi lui è un campo che sale e scende in base alle nostre energie che utilizziamo l'ho trovato abbastanza preciso però gli ci vuole un bel po' per arrivare ad essere preciso diciamo che per arrivare a una precisione buona dobbiamo fare almeno una dozzina di allenamenti anche belli intensi e belli lunghi quarto punto positivo le mappe e questo è legato anche al fatto che il 7x è uno schermo grosso e le mappe si riescono a soffrire molto facilmente le mappe allora sul 6 si sa che c'erano dei problemi che ogni tanto si piantavano non funzionavano bene anche graficamente nel nostro granché non era facile seguire le tracce per quanto riguarda la funzionalità non si piantano più io ci ho caricato tracce anche abbastanza lunghe non ho avuto nessun problema seguire la traccia è molto semplice adesso abbiamo anche la possibilità che lui ci indichi dei punti diciamo di interesse come può essere delle fonti d'acqua dei punti di poter rifornirci di mangiare perché c'è un bar o roba simile lungo il percorso possiamo anche mentre utilizziamo una traccia andare a implementare questi punti semplicemente andandogli a cercare lui andrà a modificare quella che è la nostra traccia per farci passare da questi punti di interesse io dico in realtà mi sono trovato super bene davvero per quanto riguarda le mappe e legato a questo punto ci aggiungo anche l'applicazione terza perché io utilizzo per creare quelle che sono i miei segmenti di allenamento e le mie mappe comut noi possiamo andare tramite l'app connect iq a installare sull'orologio direttamente comut ma questo c'è anche per strava e andare a ritrovare sul nostro orologio la mappa il tracciato quindi non dover più andare a a prendere la traccia da comut metterla su connect id a quel punto di sincronizzare tutto questo passaggio è eliminato noi fatta su comut ritroveremo direttamente all'interno dell'orologio la nostra traccia molto più semplice fatto bene e anche da questo punto di vista comunque possiamo trovare anche altre app al di là di quelle che sono le mappe quinto punto positivo tutta la parte smart ok che è uno sport watch però la parte smart comunque va curata e questo orologio ha forse la miglior parte smart di tutti gli sport watch abbiamo messaggi preimpostati da poter inviare come risposta possiamo decidere noi di andare a scrivere un messaggio preimpostato da utilizzare come risposta abbiamo quello che è il Garmin Pay quindi possiamo pagare attraverso l'orologio in questi tempi di pandemia può tornare anche molto utile abbiamo la possibilità di avere la musica direttamente sull'orologio quindi poterlo gestire tramite lui con Spotify, Amazon Music e via dicendo più come dicevo la possibilità di andare a inserire app di terze parti per anche implementare quelle che sono le funzioni smart ultimo punto questo molto particolare secondo me è molto importante tutta quella che è la parte di sicurezza che ci offre il Garmin questo orologio comunque dato che magari lo utilizziamo in ambiente outdoor e magari siamo da soli riesce a fornirci un minimo di sicurezza ovvero se legato al nostro orologio possiamo utilizzare il live tracking quindi una persona all'esterno può seguirci nella nostra attività secondo per secondo o ogni tot che decidiamo di far sincronizzare il GPS ha la possibilità se rileva delle accelerazioni G particolari di chiederci è successo qualcosa? stai bene? se noi non rispondiamo lui andrà a mandare direttamente al nostro contatto impostato dentro l'applicazione un messaggio di avviso con scritto attento questo utente è in pericolo non risponde alla notifica queste sono le coordinate quindi sicuramente possiamo farci anche venire a soccorrere sono dei piccoli accorgimenti che comunque sono importanti perché la sicurezza non è mai troppa e avere qualcosa che ci può aiutare anche da questo punto di vista sicuramente ci fa essere più tranquilli durante i nostri allenamenti passiamo ora però ai lati negativi perché ok che è un orologio molto molto bello ma ha anche dei punti negativi in primo la costruzione non intendo i materiali attenzione i materiali l'assemblaggio eccetera perfetti Garmin a questo punto di vista nessun problema il problema è che questo orologio viene posto come orologio a tenere su tutti i giorni 24 ore al giorno 7 giorni su 7 questo orologio è fin troppo pesante è fin troppo ingombrante orologi della concorrenza con lo stesso diametro del quadrante e con la stessa batteria pesano non dico la metà ma un terzo in meno sono anche meno spessi cioè questo da tenere al polso tutti i giorni è un mattoncino cioè lo si sente non è neanche così facile dormirci la notte per avere anche il monitoraggio notturno secondo punto negativo è questo molto 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 importante GPS e pulsossimetro allora pulsossimetro sballatissimo ho avuto dati del 90 91% cioè praticamente secondo lui stavo morendo quando in verità utilizzando degli strumenti un pochino più affinati avevo ostiginazione del sangue buona di una persona normale tranquilla quindi pulsossimetro lasciamo la parte GPS abbiamo ancora problemi di GPS come è stato sulla versione 6 se utilizziamo l'orologio tra gli edifici o sotto gli alberi beh la traccia è completamente sballata ma non sballata di un metro cioè guardate questo grafico in questi tornanti veramente è super sballato ed ero sotto a degli alberi in campo aperto funziona bene non ha nessun problema la traccia è precisa ma sotto gli alberi veramente è troppo sballata per essere un orologio così troppo di gamma e questo l'ho notato anche perché facendo delle uscite in bici utilizzando anche il computer da bici è un altro orologio l'altro orologio il computer da bici mi davano 95 km questo si è fermato a 91 e mezzo quindi proprio il GPS è da rivedere terzo punto negativo quello che è la nuova funzione di touchscreen è la torcia secondo me qua non aveva senso aggiungere il touchscreen perché comunque quando lo utilizziamo a registrare un'attività il touch lo disattiviamo l'unico senso che ci ho trovato e magari se riceviamo dei messaggi particolarmente lunghi dobbiamo scrollare tra le notifiche andare su e giù tra le notifiche comunque non è un touchscreen fatto bene nel senso ogni tanto perde colpi ogni tanto magari dobbiamo fare due o tre scroll prima che lo prende è una cosa che secondo me veramente Garmin poteva risparmiarsi cioè il bello di questo orologio almeno a me personalmente è sempre stato che riuscivo a controllarlo tramite i pulsanti anche con i guanti e via dicendo non lo so il touchscreen a me non piace veramente non l'avessero messo non mi sarebbe cambiato nulla idem la torcia una cosa che c'è solo sul 7x è una torcia che fa pochissima luce non ne trovo il senso cioè l'unico senso che ho trovato è se vi salta la corrente in casa e non sapete dove è il telefono per illuminare questo se avete al posto riuscite a illuminare un attimo ma non pensate di utilizzarla come una torcia mentre fate allenamento cioè questa torcia è decisamente meno luminosa rispetto a quella che può fare un comune smartphone quindi è un'altra cosa che io non avrei personalmente aggiunto quarto punto negativo questa torcia è veramente complesso nel senso che ha talmente tanti campi ha talmente tante impostazioni che se non si ha dimestichezza se non ci si smanetta dietro per tanto tanto tempo si fa fatica ad utilizzare capiamoci se dobbiamo far partire un'attività è veramente molto semplice non è difficile da utilizzare il problema è se vogliamo personalizzarlo se vogliamo andare a cercare quella impostazione precisa cioè io per attivare quello che è il monitoraggio del HRV cioè è sotto 4 sottocampi cioè è una cosa che io ci ho messo quasi un'ora a trovarlo è troppo complesso bisognerebbe anche qua dare una svecchiata a tutto il menu fare in modo che sia molto più semplice molto più intuitivo perché ok chi lo sa utilizzare chi ha Garmin da tanto tempo ma una persona che si affaccia adesso a questo mondo prima che lo impara ci passano mesi e mesi e mesi e mesi perché è troppo complesso ultimo punto negativo il prezzo nella versione base questo orologio costa 700 euro nella versione solar base 800 il 7x 900 cioè sono tanti tanti soldi è una una spesa veramente importante e ne vale veramente la pena secondo me vi dico la verità no mi spiego meglio vale la pena passare dal 6 al 7 solamente se non utilizzate la fascia cardio quindi volete comunque un sensore dal polso migliore rispetto a quello che è 6 e soprattutto se cercate un'autonomia maggiore se fate sport di endurance allora sì perché questo orologio beh fa molto più ore rispetto a quello che era il 6 ma se fate allenamenti da 2 3 ore ma anche 4 5 6 10 ore cioè il 6 va benissimo davvero cioè con questo orologio è cambiato veramente poco tra quello che era 6 e quello che è 7 la cosa che è cambiata di più praticamente è l'autonomia ed è stato migliorato il sensore dei battiti da polso ma se noi utilizziamo una fascia cardio e quindi i battiti da polso non ci interessa e non abbiamo bisogno di un'autonomia così lunga io vi lo consiglio andate avanti a comprare il 6 anche perché al momento il 6 Pro lo si trova a 500 euro visto che è uscito questo è stato scontato e ne vale la pena vi dico la verità se avete un 6 e non avete delle esigenze particolari restate al 6 almeno che io ad esempio prima avevo un Fenix 5 che utilizzavo ho deciso di passare al 7 beh allora quel punto sì fate il passaggio perché è un mondo completamente diverso però la mia opinione è se non avete veramente esigenze specifiche comprate o restate a 6 questo 7 non c'è stata un'evoluzione tale da giustificarne il prezzo perciò ragazzi nella speranza sia stato esauriente ed esaustivo so che la recensione è stata veramente lunga ma c'era tanto 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 da dire io spero di aver soddisfatto tutte le vostre curiosità nel caso fatemi sapere qua sotto se avete altre domande per il resto io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao